Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi dal telegiornale la dedichiamo alla vicenda Porto di Gela. Ieri l'accorato appello lanciato dai componenti del comitato che hanno scritto al presidente della regione Rosario Crocetta in merito alle condizioni in cui versa la struttura marittima, oggi interviene il deputato regionale di Forza Italia, il gelese Giuseppe Federico. Il Porto di Gela è abbandonato a se stesso e ieri l'accorato appello lanciato dai componenti del comitato al presidente della regione Rosario Crocetta hanno chiesto un intervento immediato. Gli operatori portuali e pescatori da diversi anni portano avanti un'unica battaglia, quella di avere un porto rifugio agibile e fruibile con tutti i servizi connessi che un porto richiede. Il deputato regionale di Forza Italia, Pino Federico. Abbiamo fatto una riunione la settimana scorsa con il direttore regionale della protezione civile che era stato incaricato dal presidente della regione per mettere su un progetto che fosse un progetto che durasse meno di qualche anno, meno di 7-8 anni. L'intervento doveva essere non di escavazione nella zona centrale delle boccature ma tutto il porto doveva essere ripulito per arrivare alla profondità di 4-5 metri. L'attoriere quando abbiamo fatto questo incontro ci ha presentato il progetto e ora manca la copertura finanziaria. La copertura finanziaria, l'impegno da parte di tutta, anche il presidente della regione Crocetta con cui ho parlato, è quello di intervenire con le risorse delle compensazioni dell'Ene. Quindi ieri ho parlato con il direttore di foto e oggi si incontrano anche il presidente della regione per cui finalmente stabiliranno quando incontrarsi insieme al sindaco di Gela, al responsabile dell'Eni e la regione così. In modo da stabilire qual è la cifra per l'intervento dovrebbe essere intorno a 5-8 milioni e 8 e quindi la regione, il direttore regionale stabilirà anche il RUP e quindi il procedimento dovrebbe andare avanti. In quel tavolo è stato detto che ci vorranno 5-6 mesi per fare questo intervento ma capite bene che è un intervento molto importante e in più è un intervento duraturo. In attesa che arrivi finalmente dopo tre anni e mezzo il via da parte del Ministero per quanto riguarda il megaprogetto del Porto di Gela dove qualche anno fa avevamo dato, allora ero presidente della provincia, avevamo dato anche la copertura di circa 50 milioni. Eccoma è un problema oramai che si trascina da tanto tempo ma agli operatori del mare cosa diciamo, quando realmente i lavori cominceranno? Ci vorranno 5-6 mesi, io penso che se si accelera la tabistica può essere mantenuta ma la cosa importante però agli operatori dobbiamo dire che finalmente questa volta si farà un intervento, intervento anche sul braccio, su alcune dune che permetterà finalmente la fluibilità del nostro porto per diversi anni. Ma se non ci fossero state allora le compensazioni dell'Eni che fa il porto sarebbe rimasto così com'è? Tre anni fa i soldi erano stati messi 49 milioni di euro da parte quando ero presidente della provincia io e presidente della regione l'onorevole Lombardo queste risorse all'interno del PAC sono state tolte e sono state portate da parte del governo Rezze a pagare cassa integrazione a nord d'Italia perché sono state tolte alla regione Sicilia circa 600 milioni non so se sono state ritornate ma quelle del Porto di Gela ad oggi non ci sono. Il consigliere comunale Giovanni Panebianco passa all'Udc il giovane vocato gelese eletto lo scorso anno nella lista di Gela città che faceva capo all'ex sindaco Angelo Fasulo ha deciso di aderire al partito guidato a Gela dalla segretario Toto Incardona. Qualche mese addietro lo stesso Panebianco aveva manifestato in consiglio comunale la decisione di passare al partito democratico ma non se ne fece nulla a seguito del veto imposto da una parte del PD. Adesso come dicevamo la decisione di Panebianco di aderire all'Udc partito che debutta in consiglio comunale. Sentiamo. Dopo qualche mese di silenzio ma era proprio propedeutico a verificare quelli che erano i movimenti e anche i comportamenti dell'Udc ho potuto notare che è un partito che intanto moderato ricentra che chiaramente ha dei principi e dei valori che sono poi quelli miei quelli che ho cercato di sposare che mi ha lasciato libero nella scelta da seguire anche nei confronti dell'amministrazione comunale con ragazzi giovani, professionisti, un segretario giovane che si sta muovendo benissimo in città e con delle promesse da parte degli organismi regionali con a capo l'assessore Miciche che è un assessore alle politiche del lavoro e della famiglia che ha promesso a tutti noi che verrà in città a Gela ogni settimanalmente aprirà la segretaria per cui avremo l'assessore presente nella nostra città per dare risposte concrete ai cittadini. Dove si collocherà l'Udc in consiglio comunale? Farò opposizione? Sicuramente io continuerò a fare quello che ho sempre fatto quindi le mie idee di trasparenza, di denunce di quelle che sono le situazioni che ritengo poco chiare io continuerò a farle. Nello stesso tempo, così come pensavo prima, tutti quegli atti che sono fatti dall'amministrazione comunale per il momento pochissimi, per la verità se sono fatti per portare avanti i Gela io li voterò tranquillamente al di là dei colori che oggi prendo da questo momento in poi. L'operazione Panebianco è un'operazione che dà lustro a questo partito perché comunque parliamo di un consigliere comunale attento alla macchina amministrativa, attento a tutto ciò che è stato il lavoro portato avanti dall'aggiunta messinese dalla elezione ad oggi, un consigliere attento, un professionista giovane a cui ripeto va il mio ringraziamento per aver sposato questa causa. Ripeto, noi in Giovanni abbiamo, io lo chiamo il pivot della situazione oramai perché comunque sappiamo che lui darà del filo da torcere, non tornerà indietro rispetto all'opposizione fino ad oggi fatta, per cui ripeto, carta bianca Giovanni Panebianco. Cosa farà da oggi l'Udc per migliorare la situazione che si vive a Gela? Chiaramente la situazione a Gela è drammatica sotto molti punti di vista. Noi ci stiamo impegnando sin dall'inizio nell'approfondire questioni di interesse della comunità cittadina, oggi lo faremo più da vicino grazie all'Avvocato Panebianco e quindi ci impegneremo su questa linea. Cambiamo argomento, si darà giovedì 19 maggio alle 10 nella chiesetta di San Biagio a Gela la presentazione di Life più Green Wolf, un progetto cofinanziato dalla comunità europea mediante lo strumento finanziario Life, l'iniziativa allo scopo di dimostrare la fattibilità della conversione di scarti di lana in fertilizzante ammendante usando un impianto di idrolisi locale, questo per ridurre i costi di trasporto sia di lana che di fertilizzante ed eliminare il lavaggio e lo smaltimento delle lane grossolane. All'incontro prendranno parte tra gli altri il sindaco Domenico Messinese, l'assessore allo sviluppo economico Simone Siciliano, il responsabile dell'ufficio Europa e Bandi, Torino Collura ed ancora Giuseppe Grande e Mirko Gianzetti del Politecnico di Torino e gli amministratori di EcoShip. Dopo la bocciatura alla prima commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana dell'immigrazione di Gela alla città metropolitana di Catania, si susseguono le riunioni promosse da vari comitati. Ieri Gerenzi Spopoulos ha incontrato i capigruppo consigliari e il presidente della Sise Civica Alessandra Ascia, era presente anche il sindaco Domenico Messinese. L'incontro si è reso necessario, ha detto Liliana Bellardita, portavoce del Comitato giulese, proprio a seguito della bocciatura decretata all'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge governativo di annessione territoriale di Gela alla città metropolitana di Catania, che avrebbe costituito il primo tassello del percorso che avrebbe portato all'effettivo ingresso. Incontro, quello di ieri, doveroso, con la rappresentanza massima della comunità giulese per capire cosa intende fare per vedere rispettate le proprie delibere consigliari assunte coerentemente alla volontà popolare. L'incontro si è svolto nella sala dei gruppi consigliari alla presenza di molti consiglieri e non solo dei capigruppo. Considerata la delicatezza della vicenda, Gerenzi Spopoulos ha esposto una breve cronistoria dei fatti che si sono verificati in questi mesi all'ARS ed in particolare alla prima commissione, sollecitando il dibattito e le eventuali proposte. Il Comitato ha poi ribadito al tavolo che la battaglia per il passaggio alla città metropolitana di Catania non può essere ridotta ad argomento di campagna elettorale da parte di nessuno. La battaglia sui libri consorsi è nata come richiesta di iniziativa popolare e tale deve rimanere un patrimonio della città. Per questo il Comitato ha voluto coinvolgere l'intera classe politica nelle figure dei singoli consiglieri comunali, rivolgendosi nel doveroso rispetto a tutti, anche a quelli che hanno votato contro l'adesione. Dopo vari interventi, alla fine è emerso che, a prescindere da chi all'epoca ha votato a favore o ha votato contro, le delibere del Consiglio Comunale meritano di essere difese dinanzi a qualunque tentativo di mortificazione. La proposta più condivisa è apparsa quella del consigliere del PD, Enzo Cilignotta, il quale ha chiesto al Presidente del Consiglio e al Sindaco di chiedere una audizione urgente al Presidente dell'Ars Ardizione alla presenza dei capigruppo regionali. A Age e Messinese si faranno promotori di incontri con le istituzioni, Sindaco e Consiglio Comunale, delle altre due comunità interessate dal medesimo provvedimento, cioè di Reniscemi e Piazza Almerina. Nei prossimi giorni sarà indetta una riunione dei capigruppo per incaricare formalmente sia il Presidente del Consiglio Comunale che il Sindaco delle due iniziative da portare avanti in vista degli eventi che da qui a breve si celebreranno all'Assemblea regionale siciliana. Sono stati prorogati i termini di scadenza del bando per l'assegnazione di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo relativo all'anno scolastico 2015-2016. Lo ha reso noto l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Gela, Licia Abela. Il termine per la presentazione delle domande di Buono viene posticipato fino al prossimo 30 maggio. I moduli di domanda vanno ritirati negli uffici dell'istituzione scolastica frequentata dallo studente o scaricati dal sito del comune comune.gela.cl.it. Sabato 21 maggio alle 18.30 nei locali della libreria Mondadori di Via Marconi a Gela sarà presente Simona Loiacono, finalista del premio Strega 2016. Presenterà le streghe di Lenza Vacche. Uscire dagli uffici e dalle sedi per andare ad incontrare lavoratrici e lavoratori ed essere a disposizione per chiunque ha bisogno di tutele e chiede rispetto dei diritti. La Fly Cigelle rilancia venerdì prossimo alle 17.00 sarà a Gela in Piazza Umberto I. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna Ci mettiamo le tende. La tenda significa casa di accoglienza, una casa comune. Le tende rosse saranno una nuova casa del popolo per chi sente la voglia e il bisogno di confrontarsi, di far uscire dall'invisibilità ai problemi di chi vuole stare con la Cigelle per trovare sostegno e risposte. L'organizzazione sindacale mette le tende là dove ci sono i problemi che riguardano il lavoro, il territorio, la tutela della salute e dell'ambiente. In quei territori, dice la Cigelle, mettiamo tende e radici. Così le tende rimarranno aperte finché non si riuscirà ad ottenere una legge giusta ed efficace contro il caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento. Si metteranno le tende per affrontare la questione delle pensioni, dei rinnovi e del rispetto dei contratti. Saranno affrontate le grandi vertenze dei lavoratori e delle lavoratrici, del comparto forestale, dei consorsi di bonifica, dell'ESA e dell'ARAS e venerdì prossimo, come dicevamo, saranno affrontati proprio a Gela nella città del Presidente della Regione, Rosario Crocetta. È previsto un convegno dal titolo agroalimentare di qualità nella Piana di Gela, dalla lavoro nero al lavoro vero. Idee proposte a confronto. Presiderà l'incontro, Ignazzo Giudice, segretario generale della CGL di Caltanissetta. Interverranno tra gli altri il comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Gela, il Maggiore Valeromarra, Davide Chiarenza, segretario SIRP CGL e Michele Pagliaro, segretario generale della CGL Sicilia. Le conclusioni sono affidate a Ivana Galli, segretario nazionale Flai CGL. Saranno presenti i sindaci di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino. Alla tenda rossa sarà anche possibile firmare a sostegno della legge d'iniziativa popolare sulla Carta dei diritti universali della lavoro e per i tre quesiti referendari sull'abolizione dei voucher, l'abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti e l'abrogazione delle norme che limitano le sanzioni e il reintegro in caso di licenziamenti illegittimi. Festa di Santa Rita domenica 22 maggio a Gela alle 19.00. È prevista la messa in Piazza Sant'Agostino, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina a Rosario Gisana. Dopo la messa si trarà una breve processione attorno alla piazza. La mattina le messe saranno celebrate alle 8.30, 9.30, 10.30 e mezzogiorno. Dopo ogni messa si svolgerà la benedizione delle rose che saranno portate dai devoti. Continuano le iniziative inserite nel calendario della Primavera dell'Arte, giunta la quarta edizione promosse dal gruppo archeologico d'Italia Geloi Triskelion in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio. Sabato 21 maggio alle 21 alle mura Timoleontè chiusura con la notte europea dei musei Le Mura di Notte. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Benvenuti, seconda parte del telegiornale. Avrà inizio di 23 maggio prossimo il corso Sab Ex Rec abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande autorizzato dalla regione Sicilia, assessorato delle attività produttive. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per accedere al corso per l'apertura di una nuova attività commerciale di tipo alimentare. Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria della Conf Commercio Ascomo di Gela dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. C'è anche un recapito telefonico 0933 939718. Venerdì 20 maggio alle 17.30 presso il Teatro Eschilo di Gela si terrà il convegno distrettuale della FIDAPA, il talento delle donne nell'editoria. Elvira Sellerio un'ora fa che forgia gioielli di carta. L'iniziativa è promossa dalle vicepresidenti delle sezioni di Caltagirone, Caltanissetta, Gela, Niscemi e Serra di Falco. Il convegno vuole essere un momento di ricordo di una delle personalità più brillanti della cultura siciliana dell'ultimo secolo. E' stata l'ultima tappa del giro di presentazioni siciliane del suo libro Sottosopra. Il sottosegretario di Stato, Davide Faraone, ha voluto chiudere gli appuntamenti culturali con i suoi una domenica mattina di maggio in una sala piena a metà. Ad intervistare Faraone, una delle penne più autorevoli della regione, Salvo Toscano, notista politico, direttore di I Love Sicilia, caporedattore di Live Sicilia, con il suo stile pungente e con le sue domande franche. Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione e uno dei papabili candidati alla presidenza della regione. Ieri un endorsement della ministra Boschi sulla sua presunta candidatura a governatore della Sicilia. Qual è la sua opinione a caldo? Fa piacere, Maria Elena è un'amica con cui lavoro costantemente fianco a fianco e per aver espresso quei giudizi così illusinghieri direi una bugia se non dicessi che è una cosa che mi ha fatto piacere. Naturalmente la visita di Maria Elena è stata una visita legata al referendum e all'importanza di un sì a quel referendum per cambiare l'Italia. Il suo libro che si intitola Sottosopra è un libro che racconta anche di quello che è stato e di ciò che potrà essere. Vale ancora la rottamazione per voi renziani? In Sicilia non l'abbiamo neanche iniziata, per cui c'è un problema che non riguarda soltanto le classi dirigenti. Quello è un tema di rinnovamento che esiste, esiste anche nella burocrazia, esiste nei settori più strategici di questa regione. Siamo ancora tutti quelli che hanno comandato tanti anni fa, ma il tema della rottamazione non riguarda soltanto gli uomini, ma riguarda anche i temi, gli argomenti. Noi continuiamo a governare questa regione come se fosse quella che ha bisogno ancora oggi di assistenzialismo, di trasferimenti pubblici. Noi crediamo che bisogna completamente cambiare l'impostazione e cercare di mettere in campo azioni che spingano nuove generazioni a guidare anche da un punto di vista economico e sociale questa regione. Dal 22 al 29 maggio prossimi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21, nei locali dell'ex educatorio Regina Margherita Di Gela, si terrà la mostra d'arte a Mani Nude, l'arte nella cultura e nelle tradizioni contadine e artigianali genesi. L'iniziativa è dell'associazione culturale Smaffo, presieduta da Ghetano Davide Arizzi. Sarà Antonio Laspina, 45 anni, a guidare anche per il prossimo quadriennio le associazioni di promozione turistica aderenti all'Unfri Sicilia, all'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Laspina è stato rialetto presidente con il 90% delle preferenze durante l'assemblea regionale che si è svolta domenica a Caltanissette e che ha visto a raccolta i rappresentanti delle 250 Proloco siciliane chiamati al Cresia ad eleggere componenti del Comitato regionale, revisori dei conti e dei probbiviri. Sicuramente è una piena soddisfazione per il lavoro che è stato svolto, il riconoscimento che abbiamo avuto da tutti i partecipanti, sicuramente mio onora del lavoro svolto, è di un'associazione che veramente vuole crescere in questo momento in modo assolutamente propositivo. Sì, una grande esposizione qui al centro Michele Abate di Caltanissette, dove si sono riunite tutte le Proloco della Sicilia che oltre ad eleggere il presidente regionale per il prossimo quadriennio esponcono e fanno un workshop di tutti i prodotti tipici della Sicilia. Odori, sapori e colori dei prodotti tipici siciliani hanno per l'occasione invaso il cortile del centro Michele Abate, un expo delle Proloco siciliane curata dai nove comitati provinciali. Ha segnato durante la mattinata ai volontari del Proloco di Calascibette e Nicosia il premio dedicato alla memoria di Salvatore Rovello per tanti anni alla guida della Proloco Nissena per il migliore progetto di promozione turistica, mentre il premio per il migliore video di promozione turistica è andato alla Proloco di Pietralia Suttana. Abbiamo realizzato quest'anno i mercatini di Natale in collaborazione con un'associazione che collabora a Calascibetta per quanto riguarda il presepe vivente. Abbiamo avuto un bel po' di presenze turistiche, quindi noi ci siamo anche impegnate a farci la nostra promozione turistica. Mio merito è stato presidente della Proloco per tantissimo tempo, dopo essere stato vicepresidente al tempo del presidente Gian Musso. Lui lo faceva con grande passione, con grande amore questa attività. Io a volte scherzando dicevo che la Proloco era la sua amante, non segreta perché era ufficiale davanti a tutti e lui perdeva lì il suo tempo, tanta energia, dedicava veramente tanta passione alla Proloco. Il tutto sempre gratuitamente perché l'attività della Proloco era un'attività di volontariato, non c'è retribuzione per nessuno. Quindi quello che si faceva si faceva per passione, con la soddisfazione di fare qualcosa di buono per la città. E credo che questo sia il miglior ricordo che noi possiamo avere di mio marito. Un attestato per i meriti sportivi raggiunti la scorsa stagione sarà riconosciuto dall'assessore comunale allo sport, Eugenio Catania, agli atleti del Basket School Gela, vice campioni del titolo regionale degli Under-16 di Pallacanestro, giovedì 19 maggio alle 18, negli uffici comunali di Via Donizzetti. Sabato 21 maggio alle 9 sarà proiettato al cinema Antidoto con ingresso libero il film La storia di Loretta, un atleta speciale. L'iniziativa, promossa dall'associazione sportiva Orizzonte Gela, preseduta da Natale e Salucci, ha una valenza culturale e sociale e vuole far conoscere i valori di Special Olympics e invitare i giolesi a scendere in campo e a giocare la partita dell'integrazione per concretizzare azioni realmente inclusive, riconoscendo e valorizzando le diversità. Sempre al cinema Antidoto, sabato 21 maggio alle 21 sarà proposto Attenti a quei due con Emanuele Giammusso, Guilamo Greco e Lori Ardore. Vi ricordiamo anche una volta che le proiezioni cinematografiche sono state sospese e riprenderanno a settembre. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.